Raccontatemi. Avete già scelto il vestito? Come si usa qui? La vita a Santiago è così noiosa. Volete un calice di vino? Molto volentieri. Dicono che Donne Ines voglia sposarsi in bianco. In bianco? Facciata. Chi crede di essere? Perché questo vi disturba, Donna Lucia? Donna Ines è stata l'unica donna in un forte militare per tutti questi anni. Ed essendo vedova, perdonate, volevo dire l'unica donna bianca. Non era sua intenzione.